Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto. Oggi parliamo di un importante evento che si terrà a Pescara il prossimo 3 dicembre presso la Sala Consiliare del Comune, di cui anche Reteotto e Media Partner infatti offrirà una diretta per i nostri telespettatori. È un evento di grande rilievo sociale perché mette insieme tutti i protagonisti delle politiche di inclusione in città, un'iniziativa promossa dall'assessorato alle politiche per la disabilità del Comune di Pescara che si chiama Noi al Centro. Per presentare questa mattinata abbiamo nei nostri studi il responsabile, appunto assessore delegato alle politiche per l'inclusione e per la disabilità Massimiliano Pignoli. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Abbiamo anche l'onore di avere il sindaco Carlo Masci che ci parlerà in generale un po' delle politiche che la città, la sua amministrazione, sta mettendo in campo appunto per l'inclusione e per favorire le persone con disabilità. Buonasera e un caro saluto ai telespettatori. Buonasera sindaco. Allora, iniziamo, Pignoli spieghiamo anche con l'ausilio poi appunto di un filmato, della grafica, quale sarà l'evento che ci vedrà insieme anche noi di Reteotto Partner il prossimo 3 di dicembre a Pescara? Sì, innanzitutto perché Reteotto e perché la diretta, perché vogliamo raggiungere tutti i disabili, perché noi non lasciamo indietro nessuno, anche e soprattutto quelli che non possono muoversi e per cui siccome il 3 dicembre la giornata internazionale sulla disabilità è un momento di riflessione sugli aspetti della disabilità nella nostra città e quindi ci sono persone che purtroppo la disabilità li ha costretti a restare a letto e noi riteniamo che di dover raggiungere anche quelle persone che non potranno essere presenti. Chi sarà presente? Beh, innanzitutto non sarà un monologo ma sarà anche un po' frizzante come incontro perché ci sarà, come voi tutti conoscete, avete già visto dal frontespizio, Vincenzo Livieri che allieterà la giornata, la mattinata con battute, schecce riseranti e ci sarà ovviamente anche dei momenti di riflessione con tutte le associazioni di disabilità del terzo settore cioè quelli che comunque lavorano in partner con il Comune di Pescara ma ci saranno anche le associazioni che non lavorano con il Comune di Pescara che tramite il centro servizio e volontariato noi abbiamo invitato in questa manifestazione ci saranno anche delle scuole perché riteniamo che anche i norme dotati debbano assistere a questi momenti di riflessione, soprattutto i ragazzi, i ragazzi delle medie mi riferisco appunto a alcuni pressi di carattere sia esso pubblico ma privato di privato avremo sicuramente le medie della MAIOR e di pubblico appunto delle scuole prese dalla periferia perché generalmente le scolaresche arrivano dal centro per una questione di mobilità noi abbiamo deciso che anche quelli delle periferie debbano partecipare a questi momenti come dire di riflessione ci sarà il sindaco Carlo Masci che sarà con noi tutta la giornata ci sarà l'assessore regionale alle politiche sociali ci sarà il sottosegretario alla sanità vediamo se è in presenza o in collegamento ci sarà il figlio del sindaco Carlo Masci che è Fabio Masci che voglio sottolineare a titolo gratuito come tutti gli partecipanti perché Fabio? Perché l'avvocato Masci ha una sensibilità spiccata sulla disabilità per cui ci porterà delle tematiche inerenti agli aspetti innovativi della disabilità con la riforma ad esempio della 104 che sarà anche oggetto di riflessione e poi ci sarà una delegata ovviamente della ASL di Pescara probabilmente il direttore generale o suo delegato poi ci saranno degli piccoli interventi da parte del capogruppo di Forza Italia ma in questo caso è il primario di urologia dell'ospedale civile di Pescara il dottor Renzetti è il primario di nefrologia sempre dell'ospedale civile di Pescara il dottor Campanella perché la disabilità non vuol dire soltanto down o come dire persone ma la disabilità arriva anche ad esempio sull'aspetto diciamo di renio o comunque di urologia o di altre cose quindi la disabilità a 360 gradi poi tutto questo ci saranno ovviamente anche dei momenti dove parteciperanno i ragazzi io non voglio svelare tutto perché altrimenti le persone non seguiranno la diretta sarà un evento televisivo appunto come stava dicendo lei non voglio svelare tutto però lo dice bene il titolo noi al centro quindi la giornata sarà esclusivamente condivisa con i disabili quindi saranno i disabili a moderare l'incontro con Vincenzo Livieri non voglio svelare nulla alla fine ci sarà ovviamente anche un gran buffet per ringraziare tutti gli ospiti abbiamo già organizzato poi le lascio la parola anche l'arrivo dei disabili ci saranno dei dipendenti della multiservice sia a Palazzo di Città che dietro per aiutare appunto i disabili a salire anche se il Palazzo di Città come dire è fortemente ha i mezzi affinché i disabili possano salire però una mano comunque è sempre utile ci sarà la Polizia Municipale sia avanti che dietro che aiuteranno, loro arriveranno sicuramente con dei furgoni con dei mezzi ad hoc aiuteranno queste persone a salire al Palazzo di Città ecco appunto per coloro che invece non potranno proprio partecipare ci piace anche a noi di Rete8 essere in qualche modo partner di una importante inclusività che è determinata anche dalla diretta televisiva perché insomma sarà l'occasione di dialogo proprio questo io volevo chiedere al Sindaco lei si aspetta più un momento in cui voi fate un po' il punto anche sulle politiche sociali messe in campo dalla sua amministrazione sul fronte della disabilità e anche i temi che comunque coinvolgono la vita delle persone che hanno delle fragilità o sarà anche soprattutto io penso un momento di ascolto di quelle che sono le ulteriori necessità quelle non esaudite non soltanto dal Comune ma anche da tutti gli altri enti pubblici dall'Agenzia Sanitaria Locale fino ai protagonisti delle politiche sociali che non sono soltanto il Comune ma anche la Regione e altri interlocutori Per fare occorre sempre ascoltare noi abbiamo la volontà di ascoltare tutti e in questo caso ascolteremo soprattutto coloro che soffrono di più che hanno più bisogno di una mano tesa perché il Comune di Pescara come diciamo sempre non lascia indietro nessuno soprattutto le fragilità che ci sono e che vivono nelle città in una maniera sempre molto difficile perché le città spesso non sono accoglienti per coloro che hanno delle fragilità noi cerchiamo di creare una rete di solidarietà che sostiene tutte le questioni difficili che si sviluppano a Pescara questa rete di solidarietà è formata da tante associazioni di volontariato e del terzo settore che operano con il Comune di Pescara in coprogrammazione e in coprogettazione noi eroghiamo 78 servizi alla comunità per quanto riguarda l'ambito sociale e investiamo con il piano solare della zona circa 20 milioni di euro 5 anni fa i milioni a disposizione erano 10 li abbiamo quasi raddoppiati perché le esigenze sono molto aumentate ma anche i servizi sono aumentati e questo è molto importante perché cerchiamo di arrivare a tutti e anche questa è un'occasione per riflettere certo è un'occasione anche per stare insieme per divertirsi per far passare momenti spensierati a coloro che spesso non ne hanno però è soprattutto un momento per riflettere insieme perché ci saranno le scuole perché ci sarà la regione perché ci saranno le associazioni di volontariato e insieme potremo trovare altre soluzioni perché per noi la parola sussidiarietà non è soltanto una bella parola da utilizzare nei convegni ma è una parola che applichiamo ogni giorno cercando di dare in conto le esigenze di tutti il Comune di Pescara ha una grande organizzazione legata ai servizi sociali con ottimi professionisti che riescono a dialogare perfettamente con le associazioni del terzo settore e questa è la chiave di volta per arrivare a chiunque perché spesso le associazioni di volontariato nascono da un dramma personale che poi si trasforma in un'opportunità per la collettività, per la comunità perché persone che hanno sofferto che hanno subito drammi legati a familiari a persone vicine creano le associazioni per mettere insieme le persone che hanno le stesse problematiche e che risolvono attraverso l'intervento del Comune ma dando un contributo perché conoscono il tema perché l'hanno subito personalmente quindi io devo dire che sono molto soddisfatto delle attività sociali del Comune di Pescara e riceviamo tantissimi complimenti da coloro che poi soffriscono dei servizi Prima di chiudere un ultimo appello all'assessore Pignoli Sindaco, le chiedo lei sta per consegnare alla nuova città alla nuova Pescara un sistema di servizi sociali che comunque anche attraverso l'ascolto è quello di una città di oltre 100.000 abitanti che ne avrà ancora di più tra un paio d'anni sono ancora all'altezza su che cosa intervenire proprio nell'ottica della fusione della prossima grande città Trovare convergenze tra tre comuni grandi non è mai semplice lo vediamo giornalmente nel momento in cui ci confrontiamo sempre con gli altri sindaci però la nostra capacità deve essere proprio quella di fare sintesi per esempio Montesilvano alla sua agenzia speciale che è un soggetto pubblico che eroga i servizi noi ci muoviamo in una maniera totalmente diversa cioè utilizziamo il volontariato del terzo settore in coprogrammazione dovremo essere bravi a trovare la sintesi per fare in modo che questi due servizi possano convivere attraverso forme diverse ma che raggiungono lo stesso obiettivo questa sarà la capacità nostra di arrivare al risultato finale e su questo stiamo lavorando costantemente già da qualche anno Pignoli è bene come appunto in occasione di questo evento fare ogni tanto il punto sulla situazione proprio per capire come ancora intervenire come migliorare ma voi quotidianamente appunto in questi due minuti come siete attivi al servizio delle difficoltà concrete ogni giorno lo dice a me che ricevo centinaia di persone a settimana per cui come dire io sono io direi al giorno al giorno le ho monitorate ben precise le questioni io invece vorrei puntare il dito appunto su questa manifestazione dicendo che questa se Dio vuole e se ovviamente il sindaco mi terrà nei prossimi anni ancora in giunta e riterrà come dire il mio lavoro ancora indispensabile per questa giunta sarà il primo di una lunga serie penso e soprattutto di coinvolgere la regione attraverso il presidente Sospiri che comunque è sempre partecipe anche e soprattutto dal punto di vista speriamo economico e anche la fondazione Pescarabruzzo cui ha chiesto una mano a partire dal prossimo anno quindi questo diciamo è un primo esperimento perché sono tre mesi che faccio l'assessore ma se tanto mi da tanto io penso che il prossimo anno noi dovremmo farlo sicuramente in un ambiente più consono sindaco non me ne voglio per la sala consigliare ma per ovviamente ospitare lo faremo in un cinema sicuramente con ovviamente delle personalità anche di carattere nazionale insomma lo vorrei far un po' diventare come ha fatto diventare il presidente Sospiri il festa d'Annunziano con le dovute proporzioni ma ovviamente con una finalità oggettiva cioè di tenere sempre al centro i disabili bene io ringrazio naturalmente Massigliano Pignoli e Carlo Masci ripeto anche noi di Reteotto siamo parte di questa bella iniziativa con Vincenzo Olivieri che strapperà un sorriso per una mattina anche a persone che hanno difficoltà che a volte difficilmente sorridono per tutte le barriere che sono costrette a superare a valicare ogni giorno ma è importante valicarle insieme le barriere perché nessuno deve sentirsi escluso soprattutto in una grande città che ha tutte le sue problematiche quindi io vi ringrazio naturalmente per aver scelto Reteotto e diamo appuntamento ai nostri telespettatori sin dal mattino a partire dalle ore 9 a partire dalle ore 9 con questo collegamento in diretta che impiegherà insomma anche le nostre risorse tecniche e giornalistiche per la mattinata del 3 di dicembre data da non trascurare sul calendario dei nostri telespettatori ma soprattutto delle persone che vogliono essere partecipi anche attraverso il video a un evento importante per la città grazie a tutti voi buona serata buona serata grazie buona serata